Ciao a tutti, benvenuti all'unboxing del nuovissimo Sony Ericsson G705 Confezione, molto compatta, quasi cubica Poi ci diamo l'apertura In primo piano troviamo subito il nostro cellulare Ok, aprendo il coperchio di cartone Possiamo trovare il cavo seriale USB Per la connessione al computer Il caricabatterie Ultraleggere Una batteria L'altro, sì E gli auricolari 3,5 mm Sony Ericsson A fondo Per la costruzione C'è ancora un ultimo scompartimento Con cui Sì, c'è tutta la documentazione cartacea Impresa di cd Cd driver Ecco qui E tutti i manuali Da leggere Questo lo faremo in seguito Bene Mettiamo in parte però la scatola Apriamo C'è il tastino lock Prendo la parte posteriore Inseriamo la sim card Questo è il cellulare che va in pensione Nokia 1110i E ora spengo Apro Inseriamo la sim card Che dovrebbe Dovrebbe Sì Sì Inserita Inseriamo la batteria Perfetto Sì, giusto E chiudiamo Lo scompartimento Posteriore Con qualche click La degnata pressione E poi Blocandolo Attraverso questo Questo Bene Torniamo La protezione Dallo schermo Vediamo di accenderlo subito Piccola vibrazione La succesione La succesione Erikson Erikson Ecco E qui Vari menu Per scegliere Grazie E alla prossima